Buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Garcini. In FIPL per lavori 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno e rallentamenti tra Empoli e Ginestra verso Firenze. Per questi lavori svincolo di Montelupo chiuso in entrata in entrambe le direzioni in uscita provenendo da Firenze. Coda in uscita a Ginestra Fiorentina provenendo da Firenze. 4 km di coda per incidente al km 65 tra Pisa Nord-Est e Cascina verso Firenze. In A1 verso Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Valdarno. In direzione Bologna rallentamenti tra l'allacciamento con l'A11 e Firenze Nord. In direzione Pisa code sul BV A1-A11 provenendo da Roma e provenendo da Bologna e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!